Tre giorni di ristoro del cuore, l'ultimo fine settimana di luglio dal 27 al 29, tre giorni dedicati ai giovani della diocesi di Caltanissetta con gli esercizi spirituali guidati dal vescovo Monsignor Mario Russotto nella struttura di Montagna Gebbia presso Piazza Armerina. Un oasi di pace immersa nel verde che ospiterà tutti i ragazzi dai 16 anni in su che vorranno seguire il percorso di riflessione spirituale sul tema «I giovani e il sogno di Dio» è quanto si legge in una nota diffusa dalla Curia Vescovile. Il vescovo proporrà diverse riflessioni partendo da figure bibliche particolarmente vicine all'esperienza dei giovani e alle loro problematiche esistenziali Giacobbe, Giuseppe, Maria e Giuseppe di Nazareth. I giovani che sono interessati potranno contattare l'ufficio di Pastorale Giovanile diretto da Don Rino dell'ospedale a Longi.